salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video del canale penso che sia da mesetto e mezzo due mesi forse che non sbustiamo più niente le ho viste in edicola era da tantissimo che non vedevo questo set in giro le ho tirate su vi do anche un contesto per il semplice fatto che ho questo mazzo sei samurai montato da tipo mesi e ho un sacco di proxy questo fumo è un proxy vabbè misuo e gli altri capirai però mi manca fumo mi manca assume e mi mancherebbe un terzo un terzo kisaru quindi vediamo se magari siamo lucky ci proviamo e quindi come c'è una sbustare dai io partirei con questo ma gli altri mettiamo da parte abbiamo spenta passi di ferraglia mizu segnali di fumo di scien portare dei 6 pittore meteorologico sole vabbè abbiamo ancora 4 tentativi proviamo con il prossimo abbiamo tela meteorologica soleggiata magico moschettire wild magico moschettire desperado tecnica della spada bilama e pittore meteorologico neve va bene questa è una sorprinta va bene non ci lamentiamo next della meteorologica dell'aurora magico moschetto patto demoniaco ascetismo questa notte accostava un patrimonio statua di ferraglia e l'ultima cos'è un mostro quindi potrebbe essere un fumo o un assume sarei molto contento in caso ed è un assume perfetto bene la volevo ragazzi io non ci posso credere perché tutte le volte che registro un video o qualcuno chiama o mi suonano alla porta a sto giro mi suonano alla porta quindi mi dispiace se mi sono interrotto a metà restano due pacchetti vediamo se riusciamo a far uscire un fumo da questi pacchettini ci proviamo the dream the dream nel mentre mi si è sfasato tutto magico moschetto desperado magico moschetto mani salde pittrici meteorologica nebbia ma sono un po smintate però si vede qui un po di smint chissà come è successo un danno un po bruttino mano dei sei e l'ultima è starfire vabbè pazienza ultimo pacchetto let's go boys let's go anche questo è un po smintato magico moschetto desperado magico moschetto mani salde pioggia mano dei sei e e hai una p questo è un pittore buono va bene quindi di tutto questo sono ci termine da solo un azume non è troppo male ma speravo un po meglio sinceramente comunque bene ragazzi io direi che il video termina qui un saluto a tutti e ai prossimi del canale ciao ciao